siamo arrivati all'ultima battaglia del quindicesimo capitolo della modalità storia mortal kombat 11 aftermath ora c'è un litigio tra fratelli fujin sta affrontando raiden ma se fujin ha difficoltà ad affrontare raiden io vi consiglio di usare la levetta analogica destra per richiamare shansung e ogni volta che lo fate shansung colpisce raiden perché se voi avete difficoltà a combattere spostando la levetta analogica destra chiamate shansung così fujin può eliminare raiden e fujin ha sconfitto suo fratello raiden ma ora vediamo se vanno d'accordo dopo il loro litigio vi saluto iscrivetevi al canale mettete un mi piace come sempre